ciao a tutte allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 12 del libro che valido fino al 3 ottobre del 2018 settembre quindi l'album delle novità infatti abbiamo intanto subito la promozione ed è per la cura delle mani e anche le novità i detergenti per le mani poi abbiamo le nuove spugne con jack abbiamo i set per la detergenza e gli struccanti in set che davvero wow poi abbiamo vediamo è tornata la nuova la crema la mitica crema la pur calmille che davvero io ho amato ma è piaciuto tantissimo anche a voi anche per la confezione e per la praticità poi novità novità per il make up intanto le promozioni per il make up i set in omaggio e le promo lancio poi il nuovo correttore colorato per andare a correggere la discromia della pelle e il nuovissimo fondotinta super matte opacizzante ed perfetto per sia per la stagione che ancora non è fredda ma anche soprattutto per chi ha la pelle misto grassa davvero da provare direi di aver detto più o meno tutto si stavo controllando i miei punti e quindi sfogliamo subito l'album eccoci allora iniziamo perché un album davvero molto pieno vediamo subito eccoci qui le promozioni per la cura delle mani set crema mani idratante a lunga durata 75 ml quella che io preferisco 2 a 4 95 considerando che una prezzo pieno costerebbe 3 95 2 a 4 95 è un'ottima promozione ed è davvero un'ottima crema poi andiamo avanti vediamo il set ed è struccanti questo è il set occhi delicato struccante delicato occhi sensibili in 200 ml più 100 ml che sarebbe quello da viaggio 9 95 ma soprattutto il bifasico eccolo qua questo è fantastico sempre un 200 ml per 100 ml è un bifasico che strucca davvero tutto anche il trucco più intenso e waterproof 9 95 davvero un'ottima promozione poi set viso detergenza 2 in 1 detergente più tonico 200 ml più l'olio micellare detergente da 150 ml della linea pur calmi molto delicato sugli occhi 12 95 e la novità è finalmente tornata la crema della pur calmi questa l'ho adorata tantissimo è una crema dolcezza viso e corpo è in barattolo 125 ml prezzo di lancio 7 euro e 95 è fantastica sia sul viso che sul corpo che sulle mani ed è idrata benissimo e assorbe immediatamente quindi davvero io ne rifaro scorta poi la confezione è bellissima anche da da esporre veniamo ora altra novità perché ci sono le nuove spugne con jack allora questa è quella nera per pelli da miste a grasse che ha un è arricchita con carbone nero d'origine vegetale 6 95 oppure c'è quella per la pelle sensibile con argilla rosa sempre d'origine vegetale che è più delicata per la pelle sensibile utilizzate in abbinamento con detergente specifico è davvero fantastica vi mostro ora la novità vera vera novità sono i saponi liquidi per le mani 190 ml 395 col flaccone dosatore sono quelli della linea pleasure nature eccoli qui abbiamo quello con il cocco quello con il mango coriandolo vaniglia barbon olive petit grain sono oltre a essere comunque il prodotto che è ottimo la confezione perdonatemi è completamente è riciclabile ed è utilizzata con plastica riciclata quindi è riciclato e riciclabile quindi fa bene anche per l'ambiente allora iniziamo con una promozione davvero interessante eccola qui perché ogni 20 euro di acquisto di prodotti make up si è in omaggio a questo beauty da viaggio che è davvero grande e comodo 20 euro di acquisto di prodotti make up che ora di mostro e tra cui anche le novità comunque tra questi questi tranquillamente questi e dei ombretti mascara e occhi rossetti qui rossetti questi che sono quelle tinte lab che sono fantastici per me cipria 2 illuminante terra blush fondo tinta e la novità allora i correttori colorati quindi sono perfetti per correggere le discromie della pelle prima del correttore classico intanto abbiamo la promozione due correttori a 12 95 e poi abbiamo il vostro quello che abbiamo lilla che è quello per contrastare l'incarnato spento poi l'arancio sappiamo benissimo che corregge gli occhiaie e le macchie scure il verde che nasconde i rossori come i brufoli capillari e oppure gli rossamenti e il giallo che hanno tra le occhiaie bluastre oppure le piccole vene che si notano fantastici sicuramente comunque la promozione di 12 95 sia per i correttori e quelli classi sinistiche che comunque sia sono fantastici e quelli colorati tranquillamente potete scegliere voi quelli che preferite altra super novità eccola il fondotinta super matte quindi completamente opaco con polvere di baikal che ha le proprietà super sego regolatrici tenuta garantita 12 ore senza parabeni e opacizza immediatamente la pelle le tonalità sono dal rosa al dorato quindi ci sono davvero tutte e questo devo dire che io lo voglio provare assolutamente subito perché deve essere fantastico sempre le novità la promozione lancio 9 95 e direi che questo era tutto l'album con un sacco di novità ah fino a questa pagina quindi fino alla fine del catalogo venti euro di acquisto se in omaggio al beauty da viaggio e questo era tutto l'album come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini trovate sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali e non vi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati con il magico naturale mondo di brochet ciao